Per la mia azienda le avevo provate proprio tutte, radio, televisione, affissioni, volantini, sponsorizzazioni. Ho scoperto che avevo bisogno di qualcuno che mi convincesse, un'energia creativa nella comunicazione, qualcosa che mi alimentasse il desiderio di innovare. Avevo bisogno di un consulente creativo. Io l'ho trovato. Studio Idea. Consulenze creative. Grazie per la visione.